150 destra 2 poi sinistra 2 in destra 3 in sinistra 2 lunga crinale destra 1 lunga si restringe in sinistra 2 meglio e sinistra 5 lunga 170 su crinale tieni la sinistra su crinale poi tornate destro aperto in sinistra 2 lunga in destra 6 60 destra 6 lunga crinale sinistra 6 poi destra 3 lunga crinale poi tornate sinistra aperto in destra 5 in sinistra 1 lunga si restringe in destra 1 medio in sinistra 3 lunga 100 tornate destro in sinistra 5 in destra 4 lunga in sinistra 2 lunga in destra 2 lunga in sinistra 3 lunga in sinistra 3 lunga non tagliare in tornate dentro in destra 3 lunga non tagliare su crinale in sinistra 4 lunga in sinistra 4 60 in sinistra 4 in destra 3 6 60 destra 5 lunga possibile salto 130 tornate destro si apre e sinistra 4 continua per 100 in destra 4 salto non tagliare 40 si restringe e sinistra 2 si apre su crinale 150 destra 6 continua per 100 in tornate sinistro 60 sinistra 6 e destra 6 su crinale 40 attenzione crinale sinistra 6 subito tornate destro 150 su crinale destra 6 su crinale sinistra 5 lunga e destra 6 lunga poi tornate destro aperto e lastre di ghiaccio da qui sinistra 5 continua per 100 in destra 5 poi sinistra 6 in destra 4 lunga non tagliare cautela sinistra 1 lunga stretta in uscita in destra 6 medio 150 su appostamento traguardo